Nella camera ardente allestita all'interno della chiesa di San Domenico ad Andria continua l'afflusso costante di fedeli per omaggiare dell'ultimo saluto il vescovo emerito della diocesi di Andria, Monsignor Raffaele Calabro, scomparso improvvisamente venerdì mattina all'età di 77 anni nella sua abitazione di Via De Nicola ad Andria. La figura di Monsignor Calabro è stata più volte definita proprio come maestro di spiritualità, un titolo guadagnato a buona ragione visti i suoi 27 anni da pastore della diocesi di Andria. Sì, un giorno di dolore per l'intera comunità perché perde un pastore fedele, un pastore che ha guidato questa chiesa con dedizione e generosità per oltre 27 anni. Un pastore che è stato in primo luogo maestro di spiritualità, fedele al suo motto episcopale, domine in te speravi, signore ho riposto in te la mia speranza. Si è abbandonato totalmente in Dio e in questo abbandono, in Dio, Monsignor Calabro ritrovava la forza per guidare saggiamente questa diocesi. Proprio un giovanissimo don Gianni Massaro ha accompagnato Monsignor Calabro nel suo episcopato nel ruolo di vicario per molti anni. Il suo è un ricordo vivo e di grande insegnamento. Un uomo sobrio e discreto non amava festeggiamenti e regali. In occasione infatti del suo venticinquesimo di ordinazione episcopale, con le offerte ricevute, ha voluto istituire una borsa di studio per il nostro seminario. Monsignor Calabro ha amato le vocazioni sacerdotali e non a caso oltre il 60% dei sacerdoti attuali sono stati proprio da lui ordinati. Il suo magistero è stato ricco ed efficace. È stato testimone di ben due prodigi della Sacra Spina, curando in modo particolare tutto il cammino preparatorio, finalizzandolo non al prodigio in sé, quanto soprattutto a favorire la crescita nella fede. La scelta della chiesa di San Domenico non è casuale, visto che la riapertura dell'antico luogo di culto è stato uno degli interventi fortemente voluto proprio da Monsignor Calabro. Sono stati inoltre ben sei i complessi parrocchiali che sono stati edificati, costruiti, proprio durante gli anni del suo episcopato. In più occasioni ha confessato i suoi tre amori, Dio, la Chiesa e la Vergine Maria. Noi vogliamo affidarlo a Dio Padre perché gli conceda il giusto premio che ha promesso ai suoi servi buoni e fedeli. I funerali lunedì pomeriggio a partire dalle ore 17 dopo la traslazione della salma di Monsignor Calabro dalla chiesa di San Domenico alla chiesa cattedrale. La celebrazione sarà ufficiata da Monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto, nonché presidente della conferenza episcopale di Puglia. Grazie a tutti.